Negli ultimi 15 anni il potere di acquisto delle pensioni è diminuito del 33% e quanto denuncia lo SPI CGL. Secondo le stime il potere d'acquisto delle pensioni è destinato a peggiorare nei prossimi anni per effetto del blocco della rivalutazione annuale introdotto con la riforma Fornero che ha tolto mediamente 1.135 euro in due anni a 6 milioni di pensionati. Un pensionato con un assegno di circa 1.200 euro netti ha perso infatti 28 euro al mese nel 2012 e nel 2013 ne perderà 60 mentre chi percepisce una pensione di circa 1.400 euro netti ha perso 37 euro al mese nel 2012 e ne perderà 78 nel 2013. Come se non bastasse, continua lo SPI, nel 2013 le tasse e tariffe saranno alle stelle e incideranno sui pensionati italiani per una spesa media di 2.064 euro pro capite. il 20% in più rispetto al 2012.